40 progetti e 208 volontari coinvolti sono i numeri del centro servizi volontariato dell'Aquila dopo il bando per la selezione di 754 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale nella regione Abruzzo. Il centro di servizio per il volontariato della provincia dell'Aquila dopo i 185 posti inseriti nel bando straordinario Garanzia Giovani rilancia così il proprio impegno. educazione, promozione culturale, interventi di animazione sul territorio, tutela del patrimonio artistico, assistenza anziani e disabili, assistenza a migranti e profughi sono soltanto alcuni dei filoni principali dei progetti. Tra questi c'è anche Danza per la vita, finanziato con risorse europee del Fondo Asilo tra l'altro, Migrazione e Integrazione. Il progetto nello specifico è volto a favorire la partecipazione di 3.000 giovani immigrati in Italia, titolari di protezione internazionale e umanitaria. All'Aquila saranno due volontari che opereranno nell'associazione Don Bosco. Molto importante il ruolo dei comuni del circondario, molti progetti infatti si riferiscono al territorio, dando molta rilevanza a frazioni, itinerari di storia e sentieristica. Sono tante tra l'altro le associazioni locali coinvolte. Includono un po' tutti gli orizzonti che oggi sono della società dal punto di vista amministrativo, perché ci sono anche diversi comuni che cercano come includere dentro l'attività amministrativa, dunque anche in una conoscenza dei metodi, dell'azione, che non è soltanto spazio di indignazione, ma anche spazio di partecipazione. Quindi comuni. E poi ci sono associazioni di diverso tipo, da quelle più culturali, altre sociali, altre di intervento immediato. Sono le associazioni di volontariato, ma sono anche gruppi che raccolgono delle esigenze territoriali ed è un'opportunità per i giovani per vivere un'esperienza di cittadinanza attiva, ognuno secondo le proprie attitudini, facendo dono del tempo e riempiendo questo tempo che per molti giovani è considerato un tempo di abbandono, di non partecipazione, si sentono quasi dei dimenticati, dei lasciati a parte una generazione. E invece tra questi giovani ce ne sono tantissimi. Li abbiamo conosciuti tra i 700 che da quattro anni ormai hanno fatto parte di questo servizio civile, non soltanto occupando e impiegando bene un tempo, ma anche rimanendo attaccati a quel mondo che in questo anno di servizio civile hanno vissuto e nello stesso tempo diventando anche più capaci di leggere e di partecipare ai cambiamenti sociali di cui questa società ha bisogno. Il servizio civile del resto è un servizio donato alla collettività e molti giovani, alla fine dell'anno, trasformano l'impegno e la passione in lavoro. Non vale per tutti, ma esistono diverse esperienze positive in questo senso, ma comunque, ha ricordato Milano, nell'ottica di un lavoro futuro, spesso l'esperienza di servizio civile risulta essere come una carta di identità. Il CSVACU ha ottenuto anche il riconoscimento di un progetto sperimentale, il 41esimo per l'impiego di 13 volontari accolti in progetti di servizio civile universale in Italia e all'estero. In totale, in provincia dell'Aquila e in provincia di Teramo, sono 221 i posti nei progetti del CSVACU. La domanda andrà presentata entro il 28 settembre. Possono partecipare giovani da 18 e 29 anni non compiuti. I ragazzi saranno retribuiti con 433 euro al mese per 30 ore settimanali. Lunedì 17 intanto, alle 18 e 30, in collaborazione con la consulta giovanile del presidente Mario Schettino, ci sarà una giornata informativa nei locali della Facoltà di Scienze Umane.